Ave Maria, grazie ricevuta per la mia famiglia. Un risentito e un amorevole divino. Grazie chiede a te, Signore Divino, in questo giorno di grazie prego per te, Ave Maria, piena di grazie, Signore, con te sia fatta la tua volontà, cosa in cielo e cosa in te. E' il Padre, il Figlio e il Spirito Santo. Amen. Grazie a te, Signore, grazie a te, Signore, grazie a te. Grazie a te. Grazie a te. Grazie a te. E' c'è c'è l'anima andiamo in vera in cui l'efree i miei motivi con la parola noi abbiamo ragazzi Vito, Letta, La Zwecao, Noi, Es, Requiem, Abba. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti